In una residenza per anziani in Alto Molise sono stati denunciati i responsabili della struttura per abbandono di incapaci e carenze organizzative. Indaga sull'accaduto la magistratura di Isernia. Abbandono di persone incapaci e carenze organizzative in base alla legge regionale numero 13 del 2014. Le violazioni contestate ad una residenza per anziani in Alto Molise sono state segnalate alla Procura della Repubblica di Isernia. L'ispezione condotta dai carabinieri del NAS ha portato alla luce gravi irregolarità e la denuncia di due operatori della struttura, il titolare e il coordinatore della stessa. La casa di riposo era nata come residenza per persone avanti negli anni, ma sprovvista di quelle figure professionali in grado di dare supporto psicologico e materiale a disabili, e persone non autosufficienti. Sulla vicenda indaga la magistratura. In un'altra operazione condotta dai carabinieri, una donna di origini nigeriane, che stava scontando gli arresti domiciliari a Isernia, è stata ammanettata per minaccia aggravata ai militari e per l'illegale rimozione del braccialetto elettronico dal polso. Infine, otto campani si intestano 22, tra auto e moto, dichiarando una falsa residenza in provincia di Isernia per truffare le compagnie assicurative. Dovranno rispondere dei reati di falsa attestazione a pubblico ufficiale e truffa aggravata. Numerose sono le agenzie assicurative truffate.